Buonasera, signori. Stasera sono io il vostro dealer. Texas Hold'em. Chi vince prende tutto. Ascolta, Jake. Sei proprio sicuro di volere che vada in questo modo? Ci sono 25 milioni sul tavolo. Con chi giocherai? Smettetela! Gli amici con cui sono cresciuto. Voglio che vivano qualche bella emozione. Salute, ragazzi. Sarà una poca. Stasera potremmo divertirci e alzare la posta in gioco. Volete l'auto? O volete le fish? Ma è serio? 5 milioni in fish? Offro io. Dov'è la fregatura? Se non giocherete, dovrete accettarne le conseguenze. Le ultime volontà e il testamento. La morte è inevitabile. Tutto ciò che vive muore. La mia bambina sta per essere travolta da un uragano. E non c'è nulla che io possa fare. Sono innamorato. Non andare in quella casa. Il programma è cambiato. Non cambierò i miei piani. No, stasera non si può fare niente, è chiaro. Sarà in casa. La cosa sarà complicata, Jake. Rilancio, due milioni. All in. Ciao, Jake! Non faremo del male a nessuno. Prenderemo le tue opere d'arte. Spero sia un'altra delle tue sorprese, Jake. No. È un dipinto di Cézanne. Ascoltami, tradire qualcuno di proposito non è mai stata una mia intenzione. Questo cambia le cose, vero Jake? Le cambia. Dammi la pistola. Vieni subito fuori da lì, Jake! Voglio giocare. Non puoi sparare a tutti. Sto mirando solo a te, Victor. Grazie a tutti. Grazie a tutti.